Per intercettare precocemente le situazioni a rischio, prevenire comportamenti autolesionistici nei giovani e contenere i casi di suicidio, tentato suicidio, l'ASL di Salerno promuove la divulgazione della guida alla violenza verso se stessi in adolescenza. La guida è destinata a insegnanti, genitori, professionisti della sanità pubblica e altri soggetti interessati ai programmi di prevenzione che la crisi Covid-19 ha contribuito ad aggravare a causa degli effetti traumatici prodotti dal forzato isolamento, dalla coabitazione coatta. Di fronte a tali manifestazioni di malessere, l'UOSD, promozione della salute dell'ASL Salerno, diretta dalla dottoressa Rosa Zampetti, ha pensato di fornire con tale opuscolo uno strumento che diffonda maggiori informazioni e aumenti la consapevolezza su queste espressioni di odierno disagio. Lo scenario imposto dal coronavirus e le azioni di contenimento della sua diffusione hanno costretto a sospendere tutte le attività di scuola e servizi educativi ed ad interrompere le attività sportive, ludiche e i pomeriggi al parco da parte di tanti ragazzi. La conseguente convivenza forzata, cui non si era abituati anche se da molti è stata vissuta come un possibile elemento di crescita e un'opportunità per aumentare la coesione e i legami familiari in altre situazioni, soprattutto nei soggetti più fragili e vulnerabili, ha invece esasperato e peggiorato le interazioni dei rapporti interpersonali, inasprendo situazioni già critiche ed aumentando l'isolamento e l'emarginazione.